Era stato soccorso per intossicazione alcolemica, quindi era ubriaco e tanto, l'uomo che nella notte ha creato il caos nel pronto soccorso di Lecce. È successo alle prime ore del mattino nell'ospedale Vito Fazzi. Un 33enne di surbo, preso in carico dal pronto soccorso, si è arbitrariamente allontanato senza attendere la prognosi nelle dimissioni per poter tornare a casa. È stato allora fermato da uno degli addetti alla vigilanza dell'ospedale, mentre cercava di uscire. In mano aveva una cesta. Dentro, numerosi oggetti di valore, tra cui un computer. Nelle fasi concitate della sequenza, avrebbe anche mandato in frantumi un vetro. A quel punto, allertata, è intervenuta la polizia. Gli agenti della sezione volanti della questura di Lecce hanno bloccato il giovane e lo hanno arrestato per furto aggravato. Aveva svaliggiato la cappella e anche l'attiguo ufficio del parroco, rubando oggetti per 1.500 euro. I poliziotti lo hanno portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.